il cane non ti metti? mi vieni a uscire affettivamente risicato eh va bene, è meglio che tu faccia le gare non ti chiede ma nene chi è? che sei? come? 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 che come come non mi confermai? ogni sera quando vengo io ti metto a lavorare cosa non ti piace di stare a casa? il re mi lo sapeva, sai, se no se no ce lo paga a casa ma non sai Matteo prima ci va a provare a costituire ognuno così data brava la liberazione della donna deve essere opera della donna stessa come dice il partito e il partito un lorici con comunista deve prendere la donna che ama e poi tersi la lontano un lorici però ovviamente allora fu i amonenni quando è venuto in questa camorina? pari i due quando è venuto? quando ti va a rompere con i naghiro laico un pezzo di cras ma da male, becco è meglio che lo parlate fatemi, becco ma sei sempre sì parlatevi, parlatevi parlatevi guardatevi parlatevi 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 paratevi paratevi e paratevi vabbiamo paratevi paratevi ma paratevi 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 palla vai allora si Sì! Grazie a tutti.